Oggi facciamo la crema al limone classica e al microonde. Trucchetto, se nella crema vi si formano grumi, quando è ancora calda, frullate con un mini peamer. Musica 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 Per entrambe le creme si utilizzano gli stessi ingredienti. Cambia solo il procedimento. Musica Musica E adesso, come ricetta bonus, crustata morbida variegata con crema al limone e cioccolato. Musica Musica Per rimanere aggiornato su altre ricette iscriviti e attiva la campanellina. Musica 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 Per la decorazione, io ho usato i miei tartufini. Se volete la ricetta, cliccate qui sopra. Musica 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 Provate a fare le creme anche voi e buon dessert a tutti. Ciao! Musica Musica Musica